Sì, sono Alessandra, oggi se mi non vede in questo video giocheremo a wrestling la nostra cadera, raga Nooo, no, 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 no Ok, ok, aspetta, va Prego, non è vista, cambia le cose, va bene Grazie Ok, andiamo dietro Dobbiamo fare la nostra storia Di questi soldi, c'è il 198 euro che dobbiamo fare, ok, grazie Raga, stiamo contro a Kane Eh, questo raga è forte Raga, questo ci spacca Madonna Raga, Kane è veramente forte Quindi non so se ci batterà Ok, ragazzi, 3, 2, 1 Raga, già mi ha minato questo raga, è fortissimo Oh, è morto Bam Oh Bam, ma Raga Mirano, mirano, mi ha minato Bam, bam Raga, è morto, già è morto Però comunque mi ha picchiato un po' Lo mettiamo di nuovo qua Lo mettiamo di nuovo qua No, raga Ragazzi Ne ho fatto una mossa Vai, vai Vai, vai Bam Capriolo Non ci credo Ah Vedo, raga 1, 2, 3 E ragazzi Abbiamo vinto Ma questa è stata abbastanza Sofferta Raga, già sono passati due minuti di registrazione Continuate a seguire la carriera su PES Dai, dai, dai Ok Ci prendiamo il medikit Ragazzi Mi sbaglio Ho visto Brock Lesnar Raga È proprio lui Brock Lesnar, signori Sarò Undertaker, raga Undertaker Non ci credo Undertaker Undertaker, raga Oddio Ragazzi Tengo un bordello di vita È morto Ah, sì Ragazzi Ragazzi L'ho messo a terra Due pugni L'ho messo a terra Non ci posso credere Dammi a Undertaker Dove è Undertaker? Dai, prendiamoci questo qua, raga Dai Aperto Ma chi mi hai dato? Dove è Undertaker? Raga, comunque Raga, comunque È Una be... Una be... Mamma mia, raga Questo è forte Questo è forte E noi lo potenziamo ancora, signori Ha diventato 89, raga Adesso andiamo a fare subito una partita con lui, eh Veramente Stiamo andando bene, raga Giugniamo su questa... Eccolo qua, signori Lasciamo stare Di un dietro Inizio Incontro doppio Sì, giusto Raga, questo è bellissimo Ok, raga Bello, bello, bello Stiamo andando benissimo Stiamo andando Stiamo andando veramente molto bene Molto, molto, molto bene Mamma mia, la, che bellissimo Mamma 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 Eh, questi cosa pure forti, eh Mamma 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 Non ho avuto tre Eh, raga, è difficile Vai, vai E comunque Tag team È bellissimo Ammaccio Mi riesco a fare niente Questa cosa è forte Andiamo Oh 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 E sta ballando Vai, vai dentro Mamma Mamma Abbiamo vinto Perfetto raga siamo sempre fatti Tagga film raga è bellissimo E' qualcosa di allucinante Ok ragazzi penso che ci facciamo L'ultima partita perchè stiamo 8 minuti O 9 minuti di registrazione Bellissimo raga Veramente bellissimo Questo gioco merita tanto Voglio almeno 4 like Voglio almeno 4 like Iniziamo subito la partita Voglio almeno raga 4 like 4 like e proseguo questa serie Perchè questo gioco raga merita tanto E se voi non la volete supportare Non la supportate Mamma Mi ha contrattaccato Mamma Contromossa Grazie a tutti E se qua è forte Ma dove è? Aia Mamma Mamma E' morto E' morto Grazie 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 ragazzi il video può finire qui da ragazzi spero che questo gioco vi piace perché me ne dite tanto vabbè ragazzi il video può finire qui da I Zincolini Parula spero che questo video vi è piaciuto se volete che questa serie continui lasciate 4 like ok bella